mister zanetti neanche il tempo di godersi un bel gerone d'andata soprattutto nel finale che vi attende domani un'altra sfida importante un'altra sfida playoff a bergamo contro al vino leff si è una partita difficile come quelle che abbiamo affrontato nell'ultimo periodo un'altra partita in trasferta in un ciclo terribile dove abbiamo fatto cinque trasferta nelle ultime sette partite e una partita da affrontare perché uno scontro diretto importante è una squadra che ha un punto più di noi in classifica e che ha dei valori una squadra forte che l'ha già dimostrato molte volte sul campo e noi ora arriviamo con una certa consapevolezza a giocarci una gara insomma di livello al vino leff che non vince da un mese che ha perso le ultime due partite in casa che nelle ultime quattro gare ha fatto un punto ti fidi di questo stato di crisi che emerge dai risultati o diciamo così è una squadra come detto tu di valori importanti e quindi da tenere in debita considerazione no no assolutamente non mi fido ma basta fare due conti l'albino leff è la prima parità con noi ha perso ora viene da quattro risultati cioè ha fatto un punto nelle ultime quattro partite e nonostante questo ha un punto più di noi in classifica e quindi basta fare due conti ti fa capire che l'albino leff ha fatto un cammino fino a un mese fa da dalmeno prime tre posizioni no e quindi vuol dire che la squadra ha dei valori importanti ha avuto un piccolo momento di flessione ma ho visto le partite non sempre ha meritato di perdere ha fatto anche delle buone gare e sono sicuro che da ora vorranno tornare alla vittoria però davanti devono sapere insomma che incontreranno un su Tirol non facile da affrontare per nessuno per l'ennesima volta infermeria vuota o quasi manca solo Roma infortunato in un girone d'andata in una prima parte di stagione nella quale davvero hai sempre potuto contare su tutti gli effettivi e non dovendo fare i conti con gli infortuni sì questo è un aspetto molto importante che valorizza ancora di più quello che è il lavoro non solo mio ma il lavoro di staff passando sia per lo staff tecnico che per lo staff medico siamo stati bravi a centelinare le forze non abbiamo avuto per fortuna infortuni significativi quindi insomma speriamo di continuare su questa via è importante per me scegliere sempre su chi merita di giocare per caratteristiche quindi insomma il massimo che l'allenatore vorrebbe e vuole poter decidere in base alla gara che hai di fronte e non in base insomma a scelte obbligate. Tempo di letterine a Babbo Natale tu l'hai mandata al direttore sportivo in vista del mercato? No 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 io come ho detto altre volte non mi permetto di fare nomi perché abbiamo un direttore sportivo che più di vent'anni che lo fa è un direttore molto esperto e sa quello in che serve io ho semplicemente indicato quelle che possono essere le caratteristiche che mancano alla nostra squadra e i reparti dove secondo me siamo leggermente corti poi ci saranno sicuramente qualche ragazzo che vorrà avere un po' più spazio vorrà andare a giocare e poi lì insomma saremo attenti se puntellare la rosa insomma sia in uscita che in entrata.